Ciao, come ho anticipato ieri ho barattato per alcuni giorni la mia adventure con questo nuovo Harley Davidson Freewheeler che cos'è? Beh, è un trike, lo vedi, ha tre ruote, però a differenza dei trike che conosciamo ha uno spirito molto più hot road come il Triglide Ultra però monta il motore nuovo, la novità dell'anno in casa Harley Davidson, ovvero il Milwaukee 8 107 essendo un mezzo così particolare ho pensato di coinvolgerti fin dall'inizio in un esperimento quello che voglio chiamare social test, ovvero ti invito a fare tutte le tue domande, i tuoi dubbi, le tue curiosità sul nuovo Freewheeler e a disporle nei commenti, ti risponderò nella recensione che pubblicherò mercoledì prossimo quindi avanti, fatti sotto, chiedimi che cosa vuoi sapere, mi raccomando domande sensate sul nuovo Harley Davidson Freewheeler ci vediamo con lui mercoledì prossimo, ciao!